Frullo era un bambino. Un bambino è un bambino, ma piccolo. Frullo aveva le mani. Ne aveva una, due, due mani. Con le mani faceva tante belle cose. Accarezzava i cani, tagliava le carote, tagliava l'erba, cucinava le carote, accarezzava le carote, cucinava l'erba, tagliava i cani, cucinava i tagli, salutava Bazzorgio, il distruggitore dell'universo che se lo saluti due volte distrugge l'universo. Accarezzava la cucina. A frullo piacevano le sue mani. Le abbracciava sempre e comprava loro dei regalini. Gli piaceva mettere i guanti, che sono come dei vestiti per le mani. Metteva dei guanti verdi, verdi come l'erba. Metteva i guanti gialli, gialli come il limone. Il limone è un'arancia ma gialla e matta. Metteva i guanti bianchi, bianchi come l'erba, se un mostro ha risucchiato i colori dall'universo. Metteva i guanti viola, viola come le carote. Le carote sono un'erba gustosa e molto solida. A volte con le mani dava una carota a un cane. I cani sono tipo carote, solo che si muovono e sono animali e hanno il pelo e devono nutrirsi di ossi. I cani a volte leccavano le mani di frullo. Ah, 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 rideva frullo. Perché la lingua del cane faceva il solletico alle sue mani. La lingua è tipo un pezzo di bocca che esce dalla faccia. Solletico è una trasmissione per ragazzi e ragazze, direi uno degli anni 90. Frullo faceva sempre le passeggiate. Le passeggiate sono tipo lo stare fermi però in giro e muovendo le gambe. Le gambe sono le braccia di sotto. Le braccia sono dei tubi che portano le mani in giro. I tubi sono dei cilindri solitamente vuoti che vengono utilizzati per trasportare liquidi. I liquidi sono solidi sciolti. I solidi sono plasma freddo. Il plasma è liquido della televisione. La televisione è il muro da guardare se papà e mamma hanno da fare. Vabbè, comunque frullo era matto e salutava tutti con le mani. Salutava i suoi genitori, salutava la fruttivendola, salutava Nichi vendola, salutava un cane, salutava una carota invisibile, salutava Bazzorgio il distruggitore dell'universo che se lo saluti due volte distrugge l'universo. Bene. Ecco, se volete una storia che non tratti i bambini e le bambine come delle persone che non capiscono niente, ho fatto il mio primo libro illustrato, che si intitola La bambina che voleva diventare un sasso. È cartonato, ha i colori bellissimi di Ariel Vittori ed è proprio una storia sull'ascoltare i bambini e le bambine quello che ci dicono, perché sono persone e dovete rispettarle. Dannazione, non sono sce...